Amicizie e amori sul set? Amicizie e amori sul set? Beh, diciamo che i set portano... Ah, per quanto mi riguarda no. Però i set portano sempre... Portano sempre le loro... I loro gossip, le loro storielle, che non riguardandomi ovviamente non è che posso raccontare. È nato l'amore tra Ludovica e Luca. E poi vabbè, ci sono stati qualche retroscena che... I diretti interessati forse racconteranno prima o poi. E tu con chi si è entrato più in sintonia? Ma più o meno con tutti. Alla fine con i ragazzi, i ragazzi forse di più perché... Semplicemente perché li ho frequentati di più. Però ogni volta che usciamo tendenzialmente siamo tutti insieme. E oltre a Scam, quale serie stai guardando? Eh, ne sto... Ultimamente non è che ne stia guardando così tante perché... Sto studiando, purtroppo. Però, diciamo, adesso aspetto intrepidante attesa l'uscita della nostra stagione Game of Thrones. Come tutti, credo. E niente, sto guardando qualche film principalmente. E ti piace spoilerare? Cosa? Eh, serie. In generale, no, lo odio. Lo odio perché me lo fanno sempre a me. E qual è la tua colonna sonora in questo periodo? La mia colonna sonora? Sto ascoltando a ripetizione l'ultimo album di Franco 126 e un sacco di rancore. Basta. Abbiamo intervistato... Grande. La volta. Viaggi spesso per lavoro, immagino? Sì, capita. Cosa non manca mai nella tua valigia? Nella mia valigia la Polaroid, la porto sempre in ogni viaggio. Mi piace fare un sacco di foto. Vorrei comprare adesso anche una macchina digitale e imparare. Però ci vuole tanto tempo. Grande dire giovani e fan, un bacione grande. Grazie. Grazie. Grazie.